Avremo quattro defensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, che avvicinavano le betture? Quanto si ha? Senti, non fai le previsioni del pezzo, che vede un po' di nuvole. Con la maglia numero dieci Giuseppe Giannini, com'è? Che giornata è? Quanto tempo è che non vede un campo così, ma adesso non perché è a posto, giovi liberi tanto. Molto, molto, tantissimo tempo, credo più di vent'anni. Si torna sempre alle origini, vedi, che poi gira gira torni sempre a casa, tantissima gente qui e questo fa enormemente piacere. E' stata dura con questi ragazzi? Molto, molto perché è un'altra cosa, Noi ci portiamo dietro gli acciacchi di una carriera Siamo venuti a cercare di dare una mano Mi siamo onorati e contenti di aver fatto questa partita Speriamo che si siano divertiti tutti e anche i ragazzi Oltre il gioco io ci sono Oltre il gioco io ci sono